gentili telespettatori buona giornata i dati economici danno ragione al governo dice giorgia meloni in un'intervista alla tg5 il capo del governo ha detto che in italia abbiamo record di occupazione record di contratti stabili record dell'aumento dell'occupazione femminile e la più bassa disoccupazione degli ultimi 15 anni è vero questo sì è vero ma c'è un piccolo problema questi dati sono positivi non si possono smentire anche se la sinistra ovviamente interpreta i numeri anche se i numeri non possono essere interpretati se la disoccupazione più bassa degli ultimi 15 anni non esiste nessun ma però comunque bisogna dire che ma il fatto è che sì record di occupazione la gran parte di questa occupazione però è lavoro povero schiavitù lavorativa siamo allineati con quei paesi che vengono definiti dal terzo mondo o anche più gentilmente in via di sviluppo sapete che i paesi dove i lavoratori sono degli schiavi lavorativi vengono definiti in via di sviluppo è un modo gentile per dire terzo mondo bene il lavoro in italia è da terzo mondo il 33 per cento circa uno su tre è povero e un altro terzo un altro su tre è quasi povero quindi abbiamo il 66 per cento dei lavoratori o poveri o quasi poveri e poi quell'altro 33 per cento che si salva non pensate che vada in giro con la ferrari ecco parliamoci chiaro ma siamo sulla strada giusta sì i dati economici danno ragione al governo sì bisogna adesso fare un ulteriore passo che è quello che meloni ha già annunciato proprio a dicembre annunciato che entro sei mesi quindi entro giugno vediamo se poi verrà realmente fatto sarebbe arrivato un salario minimo chiamato equa retribuzione da dare a chi da imporre a chi assume e non ha dietro la contrattazione nazionale bene poi i sindacati ovviamente dovranno adeguarsi al salario minimo imposto dal governo per chi non ha i sindacati perché non è che il governo imponi a chi non ha i sindacati non lo so 10 euro l'ordi l'ora e i sindacati ti fanno i contratti a 5 perché allora converrebbe alle aziende converrebbe che le aziende siano cacciate dei sindacati per poi finire dove c'è l'imposizione del governo a 10 euro l'ordi l'ora quindi il salario minimo del governo chiamato equa retribuzione dovrebbe poi spingere anche i sindacati a non fare più contratti a 5 euro l'ordi vero olandini 5 euro l'ordi possiamo dire i senza vergogna bene la meloni dopo l'incontro con javier milei in visita a roma la meloni rilancia sull'operato del suo governo dice così abbiamo fatto la scelta di concentrare le poche risorse di cui disponevamo per aiutare il reddito delle famiglie ci dicono che siamo sulla strada giusta dopodiché bisogna continuare a lavorare un richiamo poi anche agli alleati dice la maggioranza è compatta ci sono sfumature diverse ma lo considero un valore aggiunto spiega meloni stiamo insieme per scelta e quando c'è bisogno troviamo le soluzioni tensioni con la lega di salvini è quello in campagna elettorale salvini fa salvini se no se no che salvini è l'ultimo blitz è quello che la lega ha presentato un emendamento c'è una proposta di modifica che elimina il tetto dei due mandati per i governatori di regione o meglio presidenti di regione perché non governano una cippa un provvedimento che approvato consentirebbe al leghista lugazzaia ma anche a a de lucca in campania di ambire alla terza riconferma zaia in veneto e de lucca in campania e poi c'è l'altra grana chiamiamola così quella degli aiuti all'agricoltura riunione di maggioranza hanno trovato una quadra sui fondi la soluzione prospettata dal ministro dell'economia giorgetti della lega e francesco lollobrigida il cognato ministro prevede non solo l'esenzione dell'irpef agricola per i redditi agrari e domicilia dominicali fino a 10 mila euro ma anche uno sconto del 50 per cento per quelli compresi tra i 10 e i 15 mila euro la meloni dice capisco le proteste l'agricoltura è una situazione difficile in europa per le follie della transizione che dicevano fosse ecologica invece era ideologica facciamo del nostro meglio ma la questione europea è di rimente dice e così questa norma sugli agricoltori entra nell'ultimo decreto il mille proroghe con un emendamento del governo ma intanto la lega sembra infatti intenzionata a portare in aula altre proposte di modifica sulla scuola gli atenei telematici e adesso ci saranno anche le urne in sardegna diciamo che alla fine all'interno del governo se ci sono idee diverse è giusto se no sarebbe uno stesso partito ecco un unico partito pertanto è giusto che la lega dica una cosa e la meloni dica un'altra tensioni è normale dialettica politica in una coalizione dove ci sono partiti che hanno idee diverse e meno male che ci sono idee diverse perché se ci fosse all'interno del centrodestra un pensiero unico sarebbe brutto perché si fa quello che dice il capo appunto e basta la sua idea è legge invece è giusto che ci siano delle discussioni perché con la discussione c'è riflessione c'è valutazione di proposte di qualcosa di diverso io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è anche poi teleitalia seconda rete dove c'è almeno un video al giorno e poi questi video sono condivisi su diversi social grazie a tutti e arrivederci a presto